Musica Abbiamo oggi ospite con molto piacere Lorella Monichini che è la dirigente scolastica dell'istituto di istruzione superiore Maiorana Maitani, liceo scientifico, l'ex ragioneria, l'ex geometria insomma tutte le scuole tecniche e liceo scientifico e siamo qui perché intanto c'è un compleanno importante i 50 anni del liceo scientifico ma poi perché è la dirigente scolastica della scuola più grande del superiore più grande della nostra città con più iscritti e chi meglio di lei ci può dire che cosa sono stati questi ultimi due anni e mezzo tra la pandemia, le emergenze e il ritorno alla normalità intanto ancora grazie di aver accettato il nostro invito e partirei proprio con questo quest'anno finalmente si è veramente ripartiti non ci sono state più interruzioni sì, la DAD, ma la scuola è stata sempre aperta era ora io direi come avete passato questi due anni di chiusura? dunque, intanto come dirigente del liceo e del tecnico sono fortunata perché i due anni precedenti li ho vissuti in un'altra scuola quindi sono arrivata proprio quest'anno in questa scuola quando effettivamente, come diceva siamo tornati un po' alla normalità abbiamo tentato di tornare alla normalità i due anni sono stati duri so che cosa è successo qui ma di fatto è quello che è successo in tutte le scuole d'Italia trovarsi dall'oggi al domani a dover inventare un nuovo sistema didattico nuove metodologie per poter garantire agli studenti non solo la formazione ma anche il contatto il rapporto con la scuola e tra di loro è stato molto impegnativo sebbene in questa scuola c'era un'antica tradizione di applicazione di metodologie digitali e quindi competenze anche tra i docenti ampiamente diffuse per cui sicuramente si è trovata meglio di altre scuole quest'anno il ritorno alla normalità è stato sicuramente molto emozionante perché rivedere finalmente la scuola sempre piena di studenti è stato senza se, senza ma sempre piena sì, sempre piena sempre piena di studenti naturalmente c'è stato il periodo fino a Natale in cui avevamo qualche classe in autosorveglianza in isolamento qualche numeri anche consistenti di ragazzi positivi all'interno poi dopo Natale sono cambiate tutte le regole e quindi è stato possibile veramente lasciare a casa soltanto i positivi o alcuni in certe condizioni particolari ancora a primavera sono cambiate di nuovo e finalmente effettivamente attualmente possono restare a casa devono scusate devono i positivi devono restare a casa i positivi e tutti gli altri possono tranquillamente venire possono venire a scuola quindi è stato sicuramente importante importante e difficile difficile perché trovarci dei ragazzi che in due anni non hanno vissuto la scuola a pieno è stato necessario fare quella che noi del settore chiamiamo la scolarizzazione non soltanto con i ragazzi del primo che si devono conoscere ma con i ragazzi del secondo e con i ragazzi del terzo sì qualcuno ha iniziato il ciclo senza mai vedere la scuola più o meno o comunque vedendola poco quindi è stato un anno impegnativo anche per i docenti non poter per me per esempio che sono tornata quest'anno in questa scuola incontrare tutti con le mascherine ha significato non riuscire a riconoscere non riuscire a focalizzare i profili le persone le espressioni quindi insomma difficile ma anche entusiasmante a proposito di ritorno alla normalità quest'anno si ritorna anche alla maturità normale quella di sempre dimori timori tanti i ragazzi hanno tanta paura perché perché comunque sono ragazzi che gli ultimi due anni l'hanno fatti in questo modo un po' strambo due anni e mezzo non ci sono due anni quindi hanno tanta paura però sono state fatte tante simulazioni ora anche noi pensavamo che forse si poteva ancora aspettare un anno per fare tutte e due le prove scritte sì c'è stata questa richiesta però è anche vero che quando una cosa si deve fare bisogna cominciarla vorrà dire che ecco si avrà un occhio di riguardo mettiamo la posizione cercando di farla fare dai consigli dalle commissioni in modo tale che così sia allineata con la vera programmazione quindi secondo me è un buon segnale anche per i ragazzi poi le commissioni sanno chi hanno davanti così come i ragazzi sanno da chi sono composte le commissioni quindi il timore per l'esame è giusto che ci sia sempre e quindi ci sarà anche quest'anno ma non è giusto che ci sia in funzione del covid ma chi ha più timore studenti o docenti gli studenti ce l'hanno perché quello si tutti noi quando gli studenti gli studenti hanno i docenti un po' ce l'hanno perché ogni anno ormai in tanto tempo che ogni anno l'esame cambia un pochino cambia prima del covid era cambiato il sistema di valutazione da 25 credito eravamo passati a 40 e quindi le griglie di valutazione cambiavano prima erano tre prove scritte e un colloquio poi è diventato due prove scritte e un colloquio e quindi di nuovo rimettiti l'anno scorso e l'altro anno a distanza in presenza non lo facciamo lo facciamo e adesso quest'anno si torna con un esame comunque diverso da quello prima del covid è diverso sicuramente da quello durante il covid l'altro grosso problema che è nato in questi ultimi anni è un po' in vari settori perché nella sanità mancano i medici mancano gli infermieri nella scuola mancano e guarda un po' soprattutto insegnanti delle materie scientifiche matematiche chimiche è stato doloroso perché non c'è stato un ricambio generazionale tra l'altro in questa scuola sia nello scientifico che nel tecnico c'era uno giocculo duro di docenti di matematica e fisica di esperienza e che era anche del territorio quindi in qualche modo c'era una continuità naturalmente le persone finiscono la loro carriera vanno in pensione e quindi non c'è stato questo ricambio a causa di concorsi non detti a causa non so bene cosa comunque per cui quest'anno abbiamo sofferto parecchio per trovare un po' in tutte le scuole sì in tutte le scuole c'erano continui nel periodo tra settembre e dicembre e sono continuati anche continui interpelli nazionali per cercare insegnanti di materie scientifiche e tecniche perché come funziona si accede quando bisogna ecco spieghiamolo perché magari qualcuno quando bisogna cercare un docente che l'ufficio scolastico non è riuscito a individuare perché le graduatorie che spettano l'ufficio scolastico si sono insaurite ricade la scelta cioè la decisione le operazioni necessarie sulla scuola la scuola accede alle graduatorie di istituto e quindi va avanti con le graduatorie quando quelle graduatorie si esauriscono cioè si arriva alla fine e non si trova qualcuno da poter incaricare si accede alle graduatorie vicinorie cioè che significa si manda un avviso alle scuole vicine dicendo nelle vostre c'è qualcuno che è rimasto di matematica figuriamoci finite le graduatorie vicinorie c'è l'interpello nazionale cioè un avviso a tutti gli uffici scolastici d'Italia per chiedere se per caso che dicevo il scientifico ma Iorana sta cercando ma che è fisica sta cercando di informare esaurito anche quello si passa alle messe a disposizione le messe a disposizione sono domande che i candidati fanno direttamente alle scuole anche senza avere tutti i titoli che vuol dire un laureando decide di fare la messa a disposizione perché intanto vuole cominciare a fare esperienza oppure un laureato da poco che non è ancora nelle graduatorie fa la messa a disposizione e quindi che succede che quando si arriva lì si va in base chiaramente al punteggio si prendono prima di tutti i laureati che non hanno fatto il tempo ad inserirsi e poi giù giù fino a scendere ai ragazzi ma anche i famosi crediti i famosi CFU servono o non servono in caso di messa a disposizione a un certo punto quest'anno non abbiamo più guardato neanche quello perché chiaramente la priorità era mettere un docente in classe devo dire sono stata fortunata perché l'ho fatto attraverso le madre cioè messa a disposizione e ho trovato però dei ragazzi estremamente volenterosi e competenti per cui magari sa a volte i genitori chiamano per qualche problema con i docenti mai mai ho ricevuto chiamate per docenti incaricati con questo sistema quindi è stato un successo loro soprattutto loro è un bel successo per loro sicuramente poi significa che i giovani sanno sanno quello che fanno sanno quello che fanno possiamo sperare il caso di quel ragazzo appena laureato che non ha avuto nemmeno il tempo di festeggiare perché è stato subito chiamato e lui stesso diceva io mi trovo bene e si trovano bene gli studenti perché io sono vicino a loro anche anagraficamente sono ancora molto simili e quindi sono un esempio diventano un esempio all'interno della classe passiamo invece alla parte che potrebbe essere più spinosa e lo stesso è un po' più interessante avete da poco come scuola organizzato un interessante convegno su l'idea di imprenditorialità nella scuola e come insegnare l'idea di impresa a scuola ecco come si insegna l'idea di impresa a scuola domanda da un milione di dollari ce lo continuiamo a chiedere naturalmente tant'è che abbiamo fatto questo convegno col titolo un po' strano ma insomma che chiarisce un po' imparare è un'impresa in generale imparare qualsiasi cosa è un'impresa ma poi è anche un'impresa per se stessi noi abbiamo scelto questo argomento perché era nella cornice delle celebrazioni dei 50 anni del liceo e l'abbiamo scelto perché riteniamo che questa scuola il liceo Magliorana che poi oggi si è arricchito anche della parte tecnica con i maitani è una scuola dove l'imprenditorialità anzi quella che piace tradurre in certi ambienti come imprenditività è una competenza estremamente curata noi abbiamo da sempre coltivato le attitudini le piccole e medie capacità dei nostri studenti permettendo loro di fare scelte consapevoli del loro futuro e soprattutto di avere successo ma un successo non diventando famosi per qualche lavoro anche può succedere ci mancherebbe altro abbiamo ex studenti che hanno fatto carriere importanti ma successo personale cioè la soddisfazione di poter dire in qualsiasi momento faccio quello che mi piace o comunque mi sono dovuto adattare ma comunque lo faccio con responsabilità è altissima la percentuale di studenti di questo tipo e come abbiamo fatto il passaggio tanti anni fa alla sperimentazione brocca ha facilitato questa cosa perché la sperimentazione brocca non stiamo a parlare ormai di una cosa che purtroppo la riforma del 2010 ha accantonato però c'aveva una cosa che era l'area di progetto allora in questa scuola si è imparato a lavorare per progetti già negli anni 90 lavorare per progetti significa far misurare i ragazzi con i problemi trovare cercare di trovare le soluzioni lavorare in team accettare piccoli fallimenti ma anche saper gestire i successi certo quest'anno nel ritorno alla normalità noi abbiamo partecipato come sempre in questa scuola a Cade a tanti tantissimi concorsi con tanti successi con tanti successi in quest'ultimo periodo non abbiamo fatto altro che ritirare premi io parlo al plurale ma hanno in terza persona dovrei parlare hanno ritirato un sacco di premi i ragazzi soprattutto quindi come diventare imprenditori di se stessi ma semplicemente mettendosi in gioco quando tu sei uno studente di 15 16 anni 17 hai bisogno di una guida l'insegnante che ti fa da guide ti dice ce la puoi fare prova a cimentarti in questa cosa ce la puoi fare ti dà quello stimolo giusto per vedere che effettivamente tu ce la puoi fare e quindi andando avanti tant'è che sabato scorso i nostri studenti hanno fatto domande e fatto riflessioni che veramente ci hanno messo quasi in difficoltà nel dover rispondere a cose spinose loro si rendono conto della società in cui vivono certo sicuramente e sanno e sanno cosa abbiamo lasciato anche noi cosa stiamo lasciando a proposito di questioni spinose purtroppo negli ultimi tempi si sono moltiplicati gli incidenti sul lavoro che hanno coinvolto studenti nell'alternanza scuola lavoro prima domanda che tipo di controllo e di prevenzione si può avere ma la seconda è ancora valido come strumento lo strumento alternanza scuola lavoro allora una piccola premessa io credo che sia stata strumentalizzata sono stati strumentalizzati gli incidenti che disgraziatamente sono accaduti a questi ragazzi per denigrare un'attività che invece è un'attività positiva perché ad esempio torniamo al convegno per questo convegno i ragazzi hanno fatto un lavoro di preparazione di poche ore qualche giorno prima e poi hanno partecipato sabato mattina in orario extrascolastico perché noi abbiamo il sabato e l'ultimo a questa iniziativa facendo un'attività di ricerca per un convegno e di relazione per un convegno ecco quella per noi è rientra nei percorsi di competenze trasversali orientamento ex alternanza scuola lavoro quindi l'abbiamo riconosciuta come alternanza sono tante le possibilità per fare alternanza e l'alternanza ha un valore importante per dare ai ragazzi i tempi i ritmi le regole che poi troveranno al di fuori della scuola se ti faccio cimentare con un lavoro in un'azienda oppure a simulare un lavoro anche a scuola ti insegno a capire che ci sono per esempio delle strutture gerarchiche da rispettare che ci sono degli orari da rispettare assicuramente che ci sono dei telefoni da non utilizzare sul posto di lavoro insomma ci sono tante piccole quindi noi crediamo nel valore del PCTO ex alternanza scuola lavoro ci crediamo e però bisogna prestare attenzione allora intanto tutti i ragazzi che si accingono a fare queste esperienze prima fanno un corso sulla sicurezza che varia dalle 8 alle 12 mi sembra addirittura fino a 16 ore nei casi di rischio molto elevato quindi si preparano capiscono che quando si va su un posto di lavoro bisogna mettere in residuo teoricamente poi dopo certo però quanto meno vengono preparati questa è la prima fase dopodiché ogni qualvolta uno studente esce dalla scuola per un percorso di lavoro e quindi di alternanza viene segnalato all'INAIL quindi acquisisce la copertura di un normale lavoratore e purtroppo quando sta in azienda corre gli stessi rischi del normale lavoratore è ovvio che un ragazzino non ha la stessa lucidità della luce non ha la stessa esperienza la stessa esperienza quindi è ovvio che è più a rischio ma all'interno dell'azienda c'è comunque un responsabile un tutor a quel punto è l'azienda che dovrebbe curare in modo particolare le operazioni che deve fare quel ragazzino d'altra parte noi a molte verifichiamo che l'azienda sia adeguata voglio essere un po' cattivello voglio fare un po' giornalista quello cattivo se uno studente nonostante la sua inesperienza si accorgesse di essere un pochettino sfruttato noi interverremo potete intervenire possiamo intervenire sì perché ci sono delle convenzioni dei patti tra scuola e azienda dove è dichiarato espressamente che certe iniziative i ragazzi non le possono prendere e che devono essere tutelati tutti i livelli di sicurezza soprattutto non essere sfruttati per esempio a noi in questo periodo ci arrivano ogni tanto richieste dalle aziende per avere un mese un mese e mezzo i ragazzi in alternanza no signori miei intanto noi ci preoccupiamo durante l'anno scolastico di far raggiungere il numero di ore necessario per accedere all'esame quindi magari non ne hanno neanche bisogno dopodiché un mese di alternanza non esiste in un anno noi possiamo dire ok bene grazie di ospitare questo ragazzo se lui è contento di venire lei lui sono contenti di venire una settimana 10 ore 15 ore 20 ore ma non un mese non ti vengo a sostituire il dipendente che è andato in ferie mettiamola così assolutamente no sempre per essere cattivi è detta io assolutamente no no però è così quindi noi non forgiamo il fianco a queste situazioni cerchiamo perlomeno di evitare certo l'altro step è l'etica la serietà la rettitudine si diceva una volta no anche nel mondo dell'impresa secondo la sua esperienza e secondo quello che è uscito fuori dal convegno possono coesistere etica correttezza e impresa secondo le conclusioni del convegno devono coesistere devono coesistere perché per i giovani è importante no una delle relazioni molto interessante è stata quella di Daria Magidi che ha detto ai giovani dovete curare le tre C competenze cuore e coraggio ma intorno a questo c'è anche tutto atteggiamento rispetto e dovete pretendere rispetto l'ha detto anche in modo particolare parlando alle studentesse che spesso le donne sono un pochino più sacrificate quindi l'etica come una scuola cura questo aspetto naturalmente insegnandola ai ragazzi insegnando loro anche come riconoscere quando c'è qualcosa che non va e quindi a segnalarlo insegnando loro che però devono essere pronti a tutto perché potrebbero trovare ambienti che non sono così favorevoli ma noi crediamo che quando anno dopo anno instilliamo nei ragazzi questi concetti questi valori ci piace credere che andando avanti riusciranno ad applicarli loro e anche a difendersi da chi non li ha perché poi se hai competenze sicuramente ti sai difendere meglio esatto quindi etica e imprenditorialità devono essere sappiamo che a volte è un po' difficile ogni tanto sappiamo che non coincidono però insomma ci dobbiamo credere io pensavo di aver concluso invece mi ero scordato un capitolo molto importante a cui tengo particolarmente che sono le donne le donne e il lavoro personalmente insomma ho sempre detto non capisco quale differenza ci debba essere tra una donna e un uomo siamo razza umana dopo la differenza viene dalle competenze certo non viene da assolutamente donna brava uomo bravo possono fare il dirigente scolastico ad esempio o la dirigente scolastica non è quello il problema no l'importante è la competenza la scuola forse è stata uno dei primi mondi che del lavoro che si è aperta in maniera prepotente alle donne in una prima fase forse perché aveva orari di lavoro diciamo che è ambigua questa apertura però forse nel primo tempo perché era si coniugava bene col famoso mondo familiare esatto oggi è ancora così oppure è veramente una scelta consapevole è difficile rispondere a questa domanda perché l'ambiente scuola è molto femminile molto al femminile la percentuale di insegnanti donne è molto più alto rispetto agli insegnanti uomini e questo la motivazione è non è bella alcune delle motivazioni non sono belle una è quella che ha detto cioè devo continuare a fare la mamma la moglie eccetera ai ruoli che ci hanno messo in testa l'altra è legata alla riconoscenza da parte al riconoscimento da parte della società della scuola e questo è un tasto dolente la scuola non è riconosciuta come valore vero nella nostra viene messa in discussione spesso è messa in discussione non è riconosciuto come un vero lavoro talvolta non è riconosciuto come un vero lavoro quindi c'hai il figlio maschio vai a insegnare coccomi con tutto quello che abbiamo speso per farti studiare cioè la figlia me femmina beh sì almeno sai lo stipendio è certo fai i figli li segui le belle vacanze perché c'è questi nell'immaginario collettivo queste vacanze lunghe esatto è totalmente vabbè non apriamo non apriamo questo lo apriamo un'altra volta quindi questa forte presenza delle donne nella scuola non necessariamente è un elemento positivo è positivo perché poi con le donne nella scuola si fanno un sacco di cose ci si rimbocca le maniche si fanno progetti sono tutelate almeno nel pubblico impiego speriamo di sì assolutamente sono tutelate e hanno parità di stipendio sì quella sì quello sì a me già questo basterebbe per essere più tranquillo sì perché lo stipendio è legato chiaramente a degli scatti di carriera delle cose però c'è ancora da fare qualche il passo da fare è proprio questo riconoscimento della scuola e della donna che lavora donna e uomo che possono alla pari occuparsi delle stesse cose in famiglia anche perché anche perché il lavoro dell'insegnante oggi è veramente difficile perché sono cambiati i tempi impegnativo in termini di te non c'è più quel pomeriggio libero di cui si parlava no no ma non è solo quello non c'è l'autorevolezza spesso il riconoscimento dell'autorevolezza che volevo per carità delle cose strane sì e poi ricordo sempre che comunque formate qui dentro coloro che ci governeranno e ci guideranno quando noi saremo anziani la famosa frase che dicevo quando insegnavo ai miei studenti quelli un po' meno volentiero si dico ma se poi un giorno ti dovessi trovare in un pronto soccorso quando sarò vecchia che faccio mi metto le mani nei capelli perché oddio che mi è candidato però è così quindi insomma noi ci dobbiamo noi che siamo dentro ci dobbiamo credere a questi ragazzi e alla loro formazione e ci crediamo ci crediamo veramente tanto quindi non vederla riconosciuta certe volte dispiace un sabato scorso alcune istituzioni sono mancate alcuni imprenditori sono mancati io non mi offendo non è un problema per me se non vengono un'iniziativa che ho organizzato la scuola che dirige però mi dispiace per i ragazzi che non hanno avuto modo di confrontarsi e di veder riconosciuto il loro lavoro e mi dispiace sempre per i ragazzi quando qualcuno non tiene in considerazione quello che la scuola fa e quello che loro fanno all'interno della scuola questo sì è brutto e rientra un po' nel discorso iniziale c'è il riconoscimento della scuola allora io la ringrazio per ora abbiamo chiuso con una nota amara diciamo così un po' di delusione però si recuperano da dentro io continuo io i miei docenti miei scusate parlo non in termini di possesso ma proprio di affetto non ci mancherebbe docenti e studenti continueremo a lavorare perché insomma anche perché merita l'istituzione scuola in generale poi qui a Orvieto devo dire che i due istituti no assolutamente tutti e due siamo belli svegli siamo belli svegli anche pericolosi ogni tanto siete anche pericolosi perché fate troppe iniziative troppe iniziative e non vi stiamo dietro no vabbè è che insomma ripeto ci crediamo da tanti anni e da tanti anni per esempio la nostra scuola è un elemento importante anche per l'Unione Europea nel senso che noi abbiamo guardato l'Europa si è fondamentale abbiamo guardato all'Europa da da tanti anni ci siamo entrati ne siamo stati protagonisti e poi i giovani la conoscono bene l'Europa i giovani la conoscono bene e devo dire noi siamo reduci anche da un'altra iniziativa quella della Corà all'interno del Festival del Dialogo la conoscono bene perché ci li facciamo lavorare tanto perché i docenti conoscono bene altri docenti di altri stati membri dell'Unione Europea e a me piace dire e pensare che laddove la politica non è riuscita è riuscita la scuola è riuscita la scuola sì ma anche perché devo dire mi capita spesso anche di confrontarmi i giovani la lingua dell'Europa la capiscono la conoscono la vivono tranquillamente ogni tanto sono gli adulti che hanno qualche piccolo problema qualche difficoltà esatto perché non si mettono più confini sì mettono più confini senza capire che chi è italiano rimane italiano che è greco rimane greco che è francese rimane francese ma meno unendosi puoi arricchire il tuo paese prima di tutto perché se io vado a studiare in Francia in Germania vado a fare esperienze di lavoro giornalista vado a fare il giornalista in un giornale tedesco in un giornale francese in una televisione tedesca quando torno quando torno sono più ricco professionalmente ma loro ora parte i due anni della pandemia i nostri studenti questo fanno questo capiscono vanno a fare esperienze all'estero in modo autonomo ma anche scambi culturali all'estero e poi la scuola italiana questo però diciamolo ancora nonostante tutto è riconosciuta è forse una delle migliori d'Europa sì almeno questo prendiamoci come merito come preparazione sì assolutamente però ci sono tre cose grazie ancora e grazie a lei questa sarà la prima di una serie di interviste a disposizione grazie ancora grazie a grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti